Secondo, ma per rendere un servizio migliore a te, per mettere al sicuro, come crediamo noi, ma deve essere tuo Signore in ristarcia per la giusta via, perché tutto proceda secondo quanto è stabilito. Signore, ti chiediamo appunto questa sera di illuminarci su questo affare che abbiamo per mano, anche che siano affari temporali, questi affari sono legati a tutto il fattore spirituale che stiamo conducendo avanti. Illumina il Signore, so come il meglio agire davanti a te, davanti ai uomini. Ma questa sera affidiamo al Debutto, a tutte le lezze mani, nelle lezze mani di Maria, nostra madre. Gesù, ci presentiamo a te, dopo questa giornata faticosa, con tutti i nostri paesi, tutte le nostre angosce accumulate lungo il cammino. Quante cose tu ci vuoi dire, Signore? Quante cose si affollano nel mio cuore? Perché volete morire, Israele? Perché vi affannate, perché vi cruciate gli uni e gli altri? Non basta le sofferenze che la stessa vita vi portano, che ve ne aggiungete altre che potreste evitare. Amatevi, dove c'è l'amore ci sono io ed io risolvo ogni situazione. Ogni situazione si è risolta nell'amore. Lasciate a me che risolvo io tutte le situazioni. E vorreste pregare e amarmi tra di voi? Filippesi 4, 4, 7 Non angustiatevi, avanti ricette. Grazie. 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 Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio la vostra richiesta con preghiere, succhi dell'ingraziamento e la pace di Dio che sforpassa ogni intelligenza custoderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, pur, amabile, onorato, quello che è virtù e merita l'odio, e tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Signore, Tu ci dici di essere sempre nella gioia, nell'affabilità, ma non angustiarci, Tu vuoi, che non ci angustiamo. E quando ci sono necessità impellente, esponiamo a Te con preghiere, richieste, suppliche, e allora la pace scenderà dentro di noi e custoderà i nostri cuori. Signore, dàc'è la pace tra di noi, fa che nessuno di noi lei dà la pace, fa che nessuno di noi contristi il fratello, la sorella, ma rimetti a Te poi la sua causa. Signore, mio Dio, custodisci nella verità e nell'amore, fa che possiamo avere la pace con Te, la pace tra di noi, la pace con gli altri, e Ti chiediamo di non perdere la nostra affabilità e la nostra gioia, perché sono dono Tuo. Glorie, glorie a Te, il Signore. Glorie, glorie a Te, il Signore. Signore, Ti chiediamo di prendere parte alle tribolazioni di ciascuno. Qui l'Apostolo ringrazia i filippesi che hanno preso parte alla sua tribolazione. Quando, Signore, qualcuno è in tribolazione, noi ci scansiamo per non essere coinvolti nella tribolazione del fratello. e questo è un difetto di carità. Tu ci dici di portare i pesi gli uni degli altri, di partecipare alle gioie e ai dolore. Paolo ringrazia i filippesi che hanno preso parte alla sua tribolazione e io sono venuto incontro. Fa che quando vediamo un fratello in tribolazione gli veniamo incontro. noi non già, tante volte, già partiamo lo lasciamo solo per non essere coinvolti anche noi tutt'al più diciamo qualche padre nostro, ave Maria e crediamo di avere sciolto tutto il nostro debito verso il fratello. mentre la caretà vuole che noi prendiamo parte alla tribolazione di ciascuno e tutto questo commuove Dio perché quando noi ci muoviamo verso il fratello Dio che vede non può essere da meno di noi e verrà lui incontro a prendersi cura di noi. Tutto questo, Signore, fa che si faccia nella carità più schietta senza interesse nella pura carità. ed è vero così che non abbiamo nessun debito verso gli altri se non quello di amarci e sostenerci e aiutarci. Signore, l'Apostolo conclude la lettera di Filippese che proprio oggi abbiamo letto nell'ufficio della lettura per cui siamo nel giorno che la liturgia ci ricorda questa lettera si dice salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù vi salutano i fratelli che sono con me vi salutano tutti i santi soprattutto quelli della casa di Cesare Signore, qui si parla di santi salutate ciascuno uno dei santi che sono là qui vi salutano i fratelli che sono con me vi salutano tutti i santi signori cristiani sono santi erano santi quelli di Filippo ed erano santi anche quelli che stavano con Paolo con Paolo a Roma quando Paolo scrive questa lettera vi salutano tutti i santi che sono con me salutate tutti i santi che sono lì con voi Signore quale riverenza dobbiamo avere gli uni verso gli altri e qual impegno dobbiamo prendere di essere santi il cristiano anche tribolato anche provato anche con i suoi difetti che i suoi limiti è un santo e come salutiamo i santi del cielo così salutiamo i santi della terra Signore ti chiediamo questa sera di prendere coscienza di essere santi e se abbiamo una coscienza di essere santi dobbiamo farci santi cioè chi è santo si santifica ancora di più come dice la scrittura ormai siamo dei santi ma urge l'obbligo di attuare giorno per giorno la nostra santità di vivere giorno per giorno e di farci più santi giorno per giorno non possiamo noi declinare ad altra strada non possiamo retrocedere recitatteremo da Cristo che ci fa santi recitatteremo dallo Spirito Santo che ci fa santi Signore alimenti in noi questa coscienza di essere tutti santi di trattare con i santi e di lavorare per essere ogni giorno più santi gloria e gloria a te Signore la cosa ti vorrei dire che i santi si salutano perché si riconoscono in Cristo Gesù hanno i segni i connotati di essere di essere di Cristo Gesù e perciò il Santo saluto il Santo noi tante volte ci ignoriamo invece dobbiamo gioire quando vediamo un Santo Signore fa che io gioisca nel vedere i miei fratelli e le mie sorelle fa che le saluto come i santi del cielo così saluti i santi della terra e anche con i difetti anche con le mancanze perché siamo santi in cammino siamo santi della terra soggetti a tanti guai ma non vogliamo dimenticare che siamo dei santi Signore fa che con affetto fraterno con rispetto grande per lo Spirito che è in ciascuno noi ci salutiamo la vicenda ci diamo il bacio santo il saluto santo l'abbraccio santo quello dettato dallo Spirito non dettato dalla carne oh Signore quante cose in poche parole Signore fa che questa sera ci salutiamo gli uni gli altri riconoscendoci santi in te tu ci hai chiamati ad essere tua membra e il tuo corpo è santo e tutte le membra sono sante a causa del capo che è santo gloria a te Signore gloria a te Signore Signore io saluto nel mio fratello e nella mia sorella la tua presenza fra chi arriva a cogliere la tua presenza e a causa della tua presenza io mi prosto davanti al fratello e alla sorella e la salute la riferisca fa che ci rispettiamo la vicenda dacci il rispetto gli uni per gli altri quel rispetto quante volte ci manca ma che quando un fratello o una sorella si amicini a noi noi con rispetto e trepidazione andiamo incontro a lui e ci informiamo di lui e facciamo festa con lui e ci congratuliamo con lui e se qualcuno piange asciughiamo le sue lacrime come si asciugano i santi signore come siamo lontani di questa delicatezza che dovremmo avere gli uni per gli altri fa che la presenza tua che è nel fratello e nella sorella sia così grande che ne fattesse umane siano obliterate non abbiano nessun valore è soltanto la tua presenza che ci conquida fa che signore io non vedo il fratello e la sorella se è grande se è piccola se è uomo se è donna se è dotta ignorante ma vede te o Cristo presente in quell'essere umano che ti appartiene a prescindere chi sia perché è tua perché tu sei presente in lei signore quanto siamo lontani e quanti sono lontani darci il rispetto vicendevole fa che ci veneriamo gli uni gli altri ci incliniamo gli uni verso gli altri per salutare te presente nel fratello e nella sorella gloria e gloria a te signore gloria e gloria voi chi dite che io sia il risposto del mio Pietro tu sei il Cristo il figlio del Dio e il Dio e il Gesù beato del Simone figlio di Giona perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato ma il padre è mio che sta al Mischel signore che ringraziamo e che bene riusciamo oh signore forse non sappiamo amare i nostri fratelli forse non sappiamo infinarci davanti a loro forse non sappiamo vedere la loro santità nella nostra signore perché ancora non abbiamo riconosciuto te oh signore Gesù ecco è lo spirito che ti rivela e allora signore invarici con il tuo santo spirito perché solo se conosciamo te è il unico vero Dio il mandato del padre il salvatore di tutti i luoghi il redentore del mondo allora sapremo amarci sapremo scoglierci sapremo curarci sapremo pregare l'uomo e gli altri sapremo veramente stringerci e baciarci con il con il bacio santo ma tutto questo dopo che abbiamo conosciuto e accolto te nel cuore signore questa grazia noi ti chiediamo signore non l'altro vogliamo per essere più salva la nostra vita la nostra famiglia la nostra comunità la nostra chiesa il mondo intero signore ogni uomo si deve inchinare davanti a te frustrarsi davanti a te adorarti signore e adorare te nel fratello signore perché in ciascuno di noi ci sei il tuo figlio e il bello signore perché c'è da noi il tuo figlio grazie signore Gesù grazie perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri le vostre vie non sono le mie vie quanto il cielo sovrasta la terra tanto le mie vie sovrastano le vostre vie i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri signore tu sei al di là dei nostri pensieri però ti rendi presente nella tua creatura parlando degli angeli tu dici nelle scritture del riveri degli angeli di ascoltare perché la mia presenza è loro e parlando dei bambini tu ci dici di custodirli di tutelarli perché la mia presenza è loro e parlando degli ammalati tu Gesù ci dici di aiutarli di visitarli perché sei tu il loro dunque c'è la tua presenza la tua presenza viva come negli angeli così negli uomini così nel bambino così nell'ammalato darci occhi per vedere signore e che noi non vediamo siamo i ciechi continui infatti chi sei io chi è cieco se non è il mio servo noi siamo i tuoi servi signore e siamo i ciechi non ti vediamo ti abbiamo in mezzo a noi e non ti vediamo signore ti crediamo di riconoscerli presente presente in ogni fratello e ti veneriamo nel fratello camminiamo in punta di piedi e ci crediamo onorati nel trattare il fratello l'ultimo di fratelli perché corriamo il rischio che è rivolto se tu vivo nel fratello e noi non ti abbiamo riconosciuto Abramo riconobbe è vero noi gli angeli ma negli angeli accorse te non accorse gli angeli ma accorse te o signore ci dice Paolo agli ebrei ricordando Abramo che dobbiamo essere ospitale gli uni con gli altri perché può darsi che nell'ospite ci sei tu e in ogni uomo ci sei tu e dobbiamo dare posto all'ospite dentro il nostro cuore oh signore che il nostro cuore sia ospitale che nel nostro cuore ci sia spazio per il fratello diceva Paolo datemi spazio io do spazio a voi nel mio cuore Padre del cielo umilmente dichiedo che Dio io dia spazio nel mio cuore ad ogni mio fratello anche a colui che mi offende anche a colui che mi serura anche a colui che mi getta la bomba per distruggermi che ci sia spazio per lui nel mio cuore e che possa vincere il male con il bene gloria e gloria a te oh signore Isaia 54 2 3 allarga lo spazio della tua tenda stendi tele della tua timore senza risparmio allunga le collicelle rinforzi ripolette perché ti allargerai a destra e a sinistra e la tua discendenza entrerai in possesso delle nazioni popolarà le città un tempo deserto signore tu rispondendo alla preghiera hai detto di allargare lo spazio della tua tenda la tenda è la mia persona il mio cuore è la mia casa tu dici di stendere i teli della mia rimora senza risparmio fa che ci sia spazio per tutti nella mia casa nella mia casa della casa del mio cuore nella casa del mio amore tu dici di allungare le cordicelle di rinforzare i paletti perché ci sia spazio 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 per tutti nessuno venga escluso del nostro amore oh signore dio gra dio di misericordia dammi questa grazia signore e da tutti questa sera la grazia di allargare la tenda di allargare di allargare gli spazi di tendere le cordicelle di allargare i paletti in modo che per tutti ci sia spazio signore quando noi guidiamo offese ci chiudiamo dentro di noi chiudiamo la porta del nostro cuore della nostra casa per stare in pace per non essere molestati diciamo non voglio sentire nessuno voglio stare in pace con me stessa e invece tu ci dici allarga gli spazi tendi le cordicelle metti ancora più lontane che sia i paletti in modo che la tua tenda sia larga grande e possa accogliere tutte come è difficile questo ma è quello che tu vuoi di te che ha detto insiracido che tu ami tutta la tua creatura e non odi nessuna delle creature che è creata altrimenti non le aveste creata tu ti prendi cura del grande ti prendi cura della formica piccola che non si vede e anche come ha detto nelle scritture dei cespuglietti del distopo e del muschio che cresce sulla tegola tu ti prendi cura anche del muschio che cresce nella tegola negli intestizi delle pietre ti prendi cura di ciò che è piccolo perché anche ciò che è piccolo è creatura tua e ha la tua presenza perché il tuo spirito come è detto nelle scritture è in ogni cosa e noi noi che ci chiudiamo noi che non guardiamo più in faccia fratello noi che ci allontaniamo per essere sole con il nostro Signore fa che non sbagliamo Signore fa che sia la tua parola a illuminarci e a guidarci nel nostro cammino e anche se per un momento noi ci saliamo per il prendere fiato però come programma di vita Tu vuoi che allarghiamo le tende e spostiamo i paletti per accogliere tutti l'ode e gloria a Te Signore Signore Tu hai detto che anche tutti i capelli del nostro capo sono contati e non ne cade nemmeno uno che il Padre non voglia Signore Tu che ci curi così bene Signore fa che anche noi ci curiamo fra di noi fa darci questo cuore grande questo cuore grande che possa contenere tutti i fratelli Signore è solo il tuo cuore che può contenere tutti Signore e allora donaci stasera il tuo cuore e prenditi il nostro Signore che non fa male il nostro cuore è di pietra il nostro cuore è incapace di amare e di vedere la necessità dei nostri fratelli donaci i tuoi occhi Signore che scrutano tutto anche le cose più piccole più inusche a noi inutili donaci i tuoi sentimenti Signore che scrutano scrutano i bisogni dei fratelli Signore darci un cuore generoso fa che non pensiamo più a noi stessi ma agli altri e tu penserai a noi Signore e la nostra ferita si rimarginerà come ci dice Isaia nel capitolo 58 solo quando avremo pensato agli altri quando avremo amato gli altri la nostra ferita si rimarginerà e tu ci guiderai Signore grazie Signore Gesù perché tu accogli i desideri del nostro cuore ma ti chiediamo stasera di realizzarli Signore perché solo tu li puoi realizzare l'uomo e gloria a te lo so che c'è Signore tu appresti il cibo a tutti questa sera ci stai dando il cibo ci stai nutriendo con la tua parola Signore noi ti benediciamo per quelle mani che ci porgono il tuo cibo per quelle bocche che tu apri per dirci la tua parola oh Gesù io sento di baciare le lambra dei fratelli delle sorelle che mi dicono la tua parola che sono strumenti della tua parola oh Gesù fa che nessuno si scandalizzi e bacia le lambra dei fratelli delle sorelle quando essi mi dicono la tua parola quando tu parli Signore ti ringraziamo moltiplica Signore in mezzo a noi coloro che ci dicono la tua parola coloro che ci porgono la tua mano coloro che con il sorriso ci danno il tuo sorriso che con le loro braccia ci danno il tuo abbraccio che con le mani ci fanno sentire la tua carezza la tua bontà e il tuo amore Signore fa che noi siamo spargitore di amore portatore di amore cioè portatore di te che sei l'amore e anche quando gli uomini ci trattano male quando gli uomini ci ammazzano fa che noi ci comportiamo sempre con l'amore che noi diciamo anche al grande nemico al più grande dei nemici uomini amico a che rispondiamo con amore a che ci odia e non ci ribelliamo nessuno Gesù figlio di Dio io ti ringrazio e ti benedico questa sera per tutte questi singoli fratelli e sorelle ti rodo e ti benedico per Vito che ha casciato nel suo dolore nella povertà della sua salute che si sostiene che si sostiene adesso cammina al via di pillola signore noi lo aiutiamo con le nostre preghiere con il nostro affetto gli portiamo la mano per dirgli siamo con te signore ti benedico per tutte queste mia sorella ti benedico per Carlo e per sua moglie che mi allietano stasera con la loro presenza ti rodo e ti benedico per Patrizia che è Gena con i suoi figli e per suo marito ti benedico per tutte le persone che soffrono dove c'è sofferenza ci sei tu ed io ti rodo e ti benedico signore e ad uno ad uno io abbraccio tutte queste care persone e le faccia mia oh Gesù oh Gesù oh Gesù sei tu benedetta per tutte queste care persone allevi i loro dolori e la loro sofferenza fate sentire signore a che esse prendano parte la tribolazione tua portano la tua croce e concedi che tutti noi prendiamo parte la tribolazione gli uni degli altri questa sera quando noi prendiamo parte la tribolazione gli uni degli altri tu sei contento tu sei è il nostro Dio l'onere gloria a te oh Signore l'onere gloria a te anche se veniamo qua signore feriti signore se veniamo qua grazie signore sei qua con le braccia per essere pronto ad accoglierci ognuno di noi signore ad un'acce e pronte noi ci ritroviamo signore davanti alla tua maestà signore davanti alla tua maestà signore perché sappiamo signore signore che tu signore sei grande signore anche se trovi un belutco piccolo poco che amici che è il suo ti benediciamo signore e ti rega amici signore signore io ti ringrazio per questa vigna domani è la festa della vigna la liturgia ci parla di vigna anche questo signore è una vigna nella vigna ci sono tante tante vite e ogni vita ogni ceppo è diverso dall'altro ceppo ed è bello vedere in una vigna così la vita di si bibbo la vita di uva bianca di uva nera di uva Italia di boscato di insolia e di tanti altri vitigne ogni vitigno ha un suo sapore da dare e i vini mescolati sono più saporosi tuo signore ora assaggi l'uva di un vitigno ora assaggi l'uva di un altro vitigno ed è bello per te signore assaggiare ora un'uva ora un'altra perché ogni uva ha il suo sapore il suo profumo e tutti insieme fanno il tuo vino signore fa che anche noi gustiamo la presenza del fratello e della sorella c'è chi ha un profumo che un altro profumo ma tutti siamo viti dalla divina fa che ci rispettiamo gli uni gli altri e diamo e diamo ognuno il nostro frutto al signore fa che chi è zibibbo non disprezzi chi è insolia chi è malaschino e fa chi è lacrime di madonna non disprezzi chi è catarrato perché catarrato va bene lacrime di madonna vanno bene sono tutte belle ma è l'antigrappole di tutte le viti noi siamo la vigna del signore oh signore questa sera noi siamo la tua vigna quella che è necessaria è che noi non diamo uva selvatica uva che esca dalla natura sotto l'innesto ma diamo l'uva sopra l'innesto quella innesta che tu hai innestata in ciascuna di noi di uva buona e possiamo dare il mosto buono per il vino buono quanta cura tu hai avuto di noi eppure le nostre vite non hanno fruttificato signore dichiariamo innanzitutto di custodire la nostra vigna ci preghiamo di vangarla e di mettere le sieve attorno alla vigna perché ad animale selvatico nelle volpi piccoline penetrano la nostra vigna e poi ti chiediamo signore di produrre uva buona ti chiediamo signore di sedere in mezzo a noi e di guardarci con amore come fa il padrone che guarda le sue vite quando fioriscono quando mettono l'uva e quando poi vendemmia l'ode in gloria a te oh signore io andai a Cana e bevi il vino io vengo a Cana stasera e bevi il vostro vino non datemi acqua e se voi porgete l'acqua io la cambierò in vino e il vino di Cana è più buono degli altri vini perché è il vino fatto da me e dice il signore io vi amo anche se i mondi si spostassero e i colli vacillassero non si allontanerebbe da te il mio affetto né vacillerebbe la mia allianza di pace dice il signore che ti usa misericordia grazie signore dice io 10 grazie signore di quest'amore che tu ci dimostri tu ci dimostri tanto amore sei signore e noi lezioniamo l'amore ai nostri fratelli noi che siamo uguali fratelli o inferiori fratelli a volte siamo così avari di amore così avari di rispetto di violenza eppure siamo uguali o inferiori fratelli tu che sei grande grande infinitamente grande tu ti pieghesi di noi e ci ami e ci dice che i monti anche se vacillano anche se si spostassero tu non ti sposterai mai non mecelerai mai sei l'amore eterno di amore eterno ti amato per questo ti sono venuti incontro e ti usa pietà cantiamo adesso all'amore all'amore di Dio che si riversi nei nostri cuori e chiediamo che come l'amore di Lui si riversa nei nostri cuori nei nostri cuori l'amore suo quello suo si riversi fratelli e se la sorella perché l'amore circoli e ritorni al padre da cui è venuto adattate il vostro canto al canto del fratello versate il vostro canto sulla bocca del fratello e prendete il canto del fratello e fate lo vostro armonizzate il vostro canto l'amore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E allora un momento di silenzio per assorbire quanto il Signore ci ha detto e poi passiamo i vesperi per unirci alla preghiera della Chiesa. O Dio viene a salvarmi. La fame del suo popolo, diciamo con umile fiducia, rinnova per noi, Signore, riconosciamo, Signore, che benefici ricevuti in questa settimana vengono dalla Tua bontà. Fa che non domino in noi il terreno sterile, ma portino frutti di vita eterna. Luce e salvezza delle gente, guide e proteggi i missionari del Vangelo. Fa che tutti gli uomini cooperano a creare un mondo nuovo. Medico delle anime dei corpi, dona sollievo ai malati, conforta i moribondi. Visita di tutti gli uomini cooperano a creare un'altra bontà. Accogli i nostri defunti nella gloriosa schiere dei santi. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, fonti di ogni bene, che esaudisci le preghiere del Tuo popolo, al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la Tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme, e aggiungi ciò che la preghiera non ossa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e viveregna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio, e Spirito Santo. Salve Regina, Madre di misericordia, figlio di dolcezza e speranza nostra, salva, a Te ricordiamo, noi escono i figli di Ema, a Madre e Sospiriamo.